La sonda marziana russa Phobos precipiterà sulla Terra tra 11 giorni con l'incognita di grossi frammenti che potrebbero resistere all'attrito con l'atmosfera e quindi schiantarsi al suolo prima di disintegrarsi. A indicare una data precisa, ma comunque passibili di variazioni, è il portavoce delle truppe aerospaziali del Ministero russo della difesa Alexei Zolutkin. A oggi la caduta di frammenti del veicolo spaziale Phobos è attesa per il 15 gennaio, ha dichiarato Zolutkin e l'agenzia Interfax. La data effettiva della caduta potrebbe cambiare in base all'influenza di fatti esterni. La sonda Phobos, lanciata all'inizio di novembre verso l'omonima luna marziana, è rimasta in orbita terrestre a causa di un malfunzionamento dei motori del razzo vettore. Per ora i tecnici russi non si sbilanciano sulla zona dell'impatto dei frammenti che potrebbero, avvertono da Mosca, arrivare a 200 kg di peso. Grazie. 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 Grazie.